se la domanda è meglio un microfono al condensatore o è meglio un microfono omidirezionale per voi è una domanda sbagliata allora sapete già tutto passate un altro video andate a vedere qualche altra cosa perché questo video non fa per voi se invece questa domanda qualche dubbio ve lo pone andate avanti perché parliamo appunto di microfoni delle loro tipologie dei loro principi di funzionamento e di qualche curiosità appunto sui microfoni qualunque utilizzo nei facciate la domanda è meglio microfono condensatore o nome indirezionale equivalente alla domanda è meglio un'automobile diesel o una cabriolet e infatti i microfoni così come le macchine si dividono in più famiglie quindi una famiglia riguarda i principi di funzionamento dei microfoni così come le macchine sono benzina diesel o ibride anche i microfoni possono essere a condensatore dinamici a nastro e qualche altro principio di funzionamento che tralasciamo e così come le macchine si possono suddividere oltre che per il tipo di motore anche per la loro forma e il loro utilizzo anche i microfoni possono essere omidirezionali car direzionali quindi cardioidi per cardioide super cardio di figura 8 indipendentemente che siano a condensatore o dinamici diamo un'occhiata quindi molto veloce non vi preoccupate a queste varie categorie partiamo dai microfoni dinamici sono la maggior parte dei microfoni sono quelli più robusti sono quelli più usati sono quelli che costano meno perché il loro principio di funzionamento è relativamente semplice infatti è esattamente lo stesso principio di funzionamento che troviamo negli altoparlanti nei bufani twitter nelle cuffie ad esempio ormai chi segue i miei video dovrebbe già sapere che un altoparlante è formato da una membrana sotto la quale c'è collegata una bobina spesso di rame che viene immersa in un campo magnetico formato da un magnete e che questa bobina se percorsa da una corrente i famosi watt che arrivano dall'amplificatore produce un movimento che pur a sua volta produce un suono ecco nel microfono succede esattamente la cosa inversa ancora una volta abbiamo la membrana ovviamente molto piccola leggera ancora una volta abbiamo la bobina il magnete ma questa volta saranno le vibrazioni dell'aria della mia voce ad esempio che metterà in movimento la membrana che sua volta mette in movimento la bobina che immersa nel campo magnetico del piccolo magnete che c'è dentro al microfono produce una piccolissima corrente che andrà pre amplificata dai pre amplificatori microfonici che sono così importanti questo tipo di microfoni sono detti i microfoni dinamici chi conosce l'alta fedeltà sa che non esistono solo gli altoparlanti dinamici bufere twitter come li conosciamo noi ma conosce ad esempio i diffusori elettrostatici o isodinamici che non prevedono una membrana un magnete ma un pannello sospeso quasi nell'aria che vibra e produce appunto il suono beh anche questa volta c'è un omologo nei microfoni sono i microfoni a condensatore si chiamano condensatore perché le due armature a questi due veli di quelli di quali adesso parliamo sono l'equivalente di quello che potrebbe essere un condensatore ma tra lasciamo la parte elettrotecnica limitiamoci dire che in un microfono a condensatore non abbiamo più la membrana con la bobina immersa in un campo magnetismo avremo solo due fogli di materiale leggerissimo estremamente leggero tenuti sospesi a distanza fra di loro da una piccola corrente la famosa phantom power che adesso affronteremo una delle due pareti viene sottoposta a movimento a seguito della pressione sonora cioè dalla mia voce e questo movimento reciproco produce una piccolissima corrente che un ancora una volta esce dal microfono e vani pre amplificatori microfonici in questo secondo caso avete notato che stiamo parlando solo di una sottilissima e leggerissima membrana che vibra non c'è più non c'è più la membrana incollata una sospensione incollata una bobina quindi stiamo parlando di una massa in movimento estremamente più leggera e questo è il motivo che causa le grosse differenze che ci sono tre microfoni a condensatore e microfoni dinamici una piccola parentesi per i microfoni a nastro che sono una via di mezzo tra i due abbiamo un nastro in un metallo estremamente leggero di può essere anche oro che pieghettato e interposto tra magneti vibrando produce una corrente quindi il microfono e nastro sono una via di mezzo tra i dinamici e condensatori diciamo così quali sono le grosse caratteristiche all'uso pratico di microfoni dinamici condensatori dinamici sono sicuramente più robusti sono sicuramente meno sensibili alle variazioni di temperatura e soprattutto di umidità sono più adatte per un uso molto ravvicinato sopportano strapazzi con questa membrana sospesa da una sospensione così come un woofer possiamo tranquillamente abusarne abuso che invece è un po più complicato attuare sui microfoni a condensatore con questa membranina leggerissima sospesa quasi nel vuoto che però è talmente leggera che è più facilmente in grado di muoversi a seguito di leggerissime variazioni di pressione quindi i microfoni a condensatore hanno le frequenze alte normalmente più estese rispetto ai microfoni dinamici la membrana e si muove anche a seguito di vibrazioni estremamente delicate per questo che hanno un suono più delicato più arioso più sensibile più adatto suoni lontani non scendo di più nei dettagli perché ci sono decine decine di tutorial qualcuno è anche fatto molto bene sul web quindi chi vuole approfondire i due discorsi lo può fare per il momento mi interessa far capire che la differenza tra microfoni dinamici e microfoni a condensatore a questo punto sia i microfoni dinamici sia i microfoni a condensatore possono essere omnidirezionali possono essere direzionali e tra i direzionali possiamo avere ancora delle sottocategorie che universalmente vengono chiamate come cardioide iper cardioide super cardioide super cardioide figura 8 eccetera 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 il microfono omidirezionale è facile capire come funziona cattura il suono da qualunque parte e gli arrivi è estremamente facile da realizzare basta avere una membrana di un tipo o dell'altro e questa membrana raccoglierà le piccole variazioni di pressione da qualunque parti arrivano questa semplicità nella realizzare nel realizzare i microfoni omidirezionale fa in modo che questi ultimi siano quelli che suonano meglio quelli più lineari non c'è nessuna artificio nel nel costruire un microfono omnidirezionale e sono veramente i microfoni dal suono più naturale di tutti ma inutile nascondere che spesso c'è bisogno di microfoni direzionali cioè che raccolgono il suono prevalentemente da una parte discriminando il suono che arriva da un'altra parte i microfoni o i microfoni direzionali o gradiente di pressione cioè gradiente a differenza di pressione funziona non abbiamo già parlato in un altro video in un modo un pochino più complicato cioè se ci fate caso tutti i microfoni direzionali di qualsiasi tipo hanno due facce la faccia anteriore la faccia posteriore tutti chi in un modo chi nell'altro hanno tutti queste due entrate del suono assolutamente non scendono i dettagli ma accontentatevi del fatto che la differenza dal suono davanti il suono che arriva dietro usa utilizzando il meccanismo della fase della controfase fa in modo di aiutare il suono che arriva davanti e discriminare annullare il suono che arriva da dietro e quindi rendendo il microfono direzionale il microfono cardioide avrà un diagramma polare cioè la raffigurazione grafica della sua direzionalità che assomiglia a un cuore ed ecco perché si chiama cardioide come notate da questi disegni e soprattutto dalle rappresentazioni in tridimensionali il massimo di reazione di un microfono cardioide sia a 180 gradi cioè esattamente dietro quindi il massimo di ripresa la avremo davanti la capacità di catturare il suono degraderà molto lentamente man mano che ci spostiamo a destra e a sinistra del microfono diminuendo sempre di più fino arrivare al massimo di annullamento abbiamo detto a 180 gradi i microfoni super cardioidi e iper cardioidi non sono altro che l'evoluzione di questo meccanismo di reiezione del suono posteriore che che fanno in modo di restringere ancor di più il campo di azione positiva del microfono davanti che andrà man mano sempre più restringendosi ma in maniera molto più efficace man mano che ci spostiamo fino a raggiungere il massimo di reazione non più a 180 gradi ma di solito diciamo 120 gradi come vedete nella figura purtroppo per le leggi della fisica che governano tutte le emissioni sonore quando si realizza un diagramma polare di questo tipo sia anche un lobo posteriore dove sono viene comunque catturato quindi utilizzeremo quindi utilizzeremo un microfono cardioide quando vogliamo eliminare il suono che arriva direttamente dietro il microfono useremo un microfono iper cardioide o super cardioide quando vorremmo eliminare i suoni che arrivano posteriormente a destra a sinistra ad esempio nel caso dell'utilizzo qui di due monitor davanti al cantante e quello è il caso in cui si può utilizzare convenientemente un microfono super cardioide per capire utilizzando non solo una capsula con le due aperture avanti dietro ma utilizzando più capsule magari anche solo due nello stesso corpo del microfono si riesce a ottenere si riescono a ottenere dei diagrammi polari ancora più complicati tipo quello della figura 8 quello della clava perché un elettronica è una meccanica più o meno sofisticati riusciranno a sommare o a sottrarre il suono di queste due capsule vendendo ancora più direzionale il suono cioè facendo in modo che venga catturato e trasformato in corrente solo il suono che venga da una parte da due parti proprio sfruttando questo gioco tra le due capsule capite che queste complicazioni meccaniche ed elettriche per rendere un microfono da omidirezionale renderlo direzionale sono da una parte molto utili ma dall'altra parte causano dei problemi di timbrica nel mondo dell'audio qualsiasi complicazione ha delle implicazioni uguali e contrarie spesso e questo gioco di cancellazione di fase non è immune da problemi tant'è che questa caratteristica polare di cui abbiamo parlato e che vedete rappresentata nelle grafiche non è uguale per tutte le frequenze quindi sarà più direzionale sulle quindi i microfoni saranno più direzionali sulle alte frequenze man mano meno direzionali man mano che la frequenza scende quindi la mia voce cambierà non solo di volume man mano che mi sposto davanti o di lato ad un microfono ma cambierà purtroppo anche di tono perché varia la risposta in frequenza del microfono man mano che mi sposto a destra o a sinistra o addirittura dietro ed ecco perché i microfoni direzionali sono meno natura a non sono meno naturale dei microfoni omidirezionali che poi il fatto che poi noi ci siamo abituati al suono dell sm58 impugnato dal cantante tenuto vicino alla bocca quello è un altro paio di maniche ho detto vicino la bocca e l'effetto di prossimità è un'altra caratteristica tipica dei microfoni cardioidi dei microfoni direzionali un veloce accenno i microfoni direzionali quando vengono utilizzati vicino alla sorgente sonora producono un incremento di bassi anche drammatico questo perché il suono della sorgente essendo vicino al microfono va a investire più la parte anteriore che la parte posteriore e questo gioco di annullamenti viene parzialmente annullato ed ecco che il suono della mia voce diventa più grosso e caldo o ciccione e sordo a seconda se mi piace non mi piace mamma se avviciniamo microfono direzionale alla sorgente sonora questo effetto è completamente assente nei microfoni omnidirezionali riassumiamo il tutto i microfoni possono essere dinamici o a condensatore a seconda del motore ops del tipo di funzionamento del principio di funzionamento che hanno sia i microfoni dinamici che i microfoni a condensatore possono essere omnidirezionali o direzionali tra i direzionali abbiamo i cardioidi gli ipercardioidi i supercardioidi e via dicendo qual è il microfono che fa per te ma chiedimelo magari sarà l'occasione di fare qualche altro video sul merito ma presto